Carlo Aloia è diventato papà. Il ballerino di Sonia Bruganelli sarà presente a Ballando con le stelle oppure no? Carlo Aloia, il ballerino che affianca Sonia Bruganelli durante Ballando con le stelle, è diventato papà. Ci sarà durante la prossima puntata del programma di Millie Carlucci? Carlo Aloia è diventato papà. Carlo Aloia e la moglie Ilenia in Travaia sono diventati papà e mamma. Proprio la scorsa settimana era stata Sonia Bruganelli ad anticipare che la nascita della prima figlia del ballerino fosse imminente. Proprio per questo motivo, in tanti si chiedono se lui sarà presente durante la prossima puntata di Ballando con le stelle. Carlo Aloia ha dovuto lasciare addirittura Sonia Bruganelli da sola in sala prove, poiché sua moglie Ilenia era prossima al parto e lui è dovuto correre in ospedale. Pochi giorni dopo la fuga, poi, tramite i sociali neo papà e mamma avevano annunciato la nascita di Michelle, prima figlia per entrambi. Carlo Aloia e Ilenia in Travaia si sono sposati nel 2019, a giugno, Poi, hanno annunciato la gravidanza e il ballerino di Sonia Bruganelli, a Novella 2000, aveva parlato così di questo traguardo di vita. Eravamo in piena ristrutturazione della casa. Io ero preso con i lavori quando mi ha chiamato sua sorella per dirmi che Ilenia aveva bisogno di me. E ancora, mi ha presentato il test e io all'inizio non capivo. Stava male? Ho guardato meglio c'erano due linee e la scritta, tre settimane. Non le ho detto niente. L'ho solo abbracciata poi mi sono rivolto a sua madre chiedendole un bicchiere d'acqua. E anche una sedia. Ora manca veramente poco. Non vedo l'ora di conoscere mia figlia. Il ballerino di Sonia Bruganelli sarà a Ballando con le stelle? Carlo Aloia e Sonia Bruganelli saranno regolarmente presenti nello studio di Ballando con le stelle. Nonostante tutto, lo spettacolo deve andare avanti. Sempre ammesso, ovviamente, che l'ex moglie di Paolo Bonolis riesca a reggere lo stress della competizione, che negli ultimi tempi si è fatto sentire in maniera prepotente.